Sarà Ivana Spagna a chiudere i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista a Motta Monte Corvino. Ivana Spagna si esibirà in Piazza della Libertà la sera di martedì 29 agosto. Atteso un numeroso pubblico nel piccolo paese dei Monti Dauni. Già in moto la macchina organizzativa per accogliere gli ospiti e gli appassionati del repertorio di Ivana Spagna.